Vincenzo Muratelli, Sindaco di Altino, sesta edizione della Sagra del Peperone Dolce. Sindaco, una manifestazione che ormai è già diventata un punto di riferimento, non sono dell'estate sangrina. Sì, sicuramente questa manifestazione ha nel corso degli anni, diciamo così, guadagnato l'attenzione di gran parte dei cittadini del nostro territorio ed è diventato un punto di riferimento molto importante. Teniamo conto che nelle due giornate del 22 e del 23 quest'anno di agosto nel bellissimo centro storico di Altino si radunano circa 5-6 mila persone che partecipano a questo evento che non è più un evento strettamente culinario per il nostro territorio ma è diventato un vero e proprio progetto perché attorno a questo prodotto tipico del nostro territorio si è innescata una rinascita anche dal punto di vista commerciale ed economico Ci sono delle nuove aziende che si sono accostate alla vostra manifestazione? Attualmente abbiamo quattro realtà locali che producono, che impiantano, trasformano, quindi lavorano questo prodotto per poi renderlo commerciale quindi è nata un'attività economica attorno a questo prodotto, quindi io non parlo più di un prodotto della nostra terra ma parlo di un progetto vero per il nostro territorio che riguarda la coltivazione, la produzione e poi anche la commercializzazione di questo prodotto